Panera Days, il caffè è un elemento fondamentale, voi siete qua in piazza del Ferrari per i Panera Days, cosa offrite al pubblico? Allora, quello che tenevamo di fare era raccontare un po' la filiera della Panera, quindi partire dal caffè, passare dal latte, arrivare alla panna e alla fine questo semifreddo che è nella nostra tradizione. Qui abbiamo caffè di altissima qualità con elevate acidità, faremo delle dimostrazioni di caffè breggiati con altre estrazioni e dimostrazioni di latte art.